Sto ascoltando letture metropolitane su radio elettrica, mancano 31 minuti per la fine della trasmissione ma abbiamo un altro film da consigliarvi Questo ve l'avevamo promesso, mi ero di promessa di vederlo appena uscito E infatti così è stato, è un film che trovate effettivamente su Netflix, quindi è di facile recupero Però se vi diciamo cercate Scoop potreste trovare almeno un film di Woody Allen del 2006 e una serie televisiva Anche un libro credo, però non so se si intitoli effettivamente così Si 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 è un adaptation, si chiama Scoops Behind the Scenes of the BBC's Most Shocking Interviews Proprio un titolo di da scalico in effetti, di Sam McAllister che è in realtà appunto la protagonista di questo film Il film si chiama Scoop Si, il film si chiama Scoop, lo trovate su Netflix, è di produzione inglese, inglesissima Ci trovate dentro una meravigliosa Gillian Anderson, anche un'ottima Billy Piper che è appunto Sam McAllister E Romola Garai e Rufus Sewell, molto bravo, che fa il principe Andrea Prince Andrew che per chi non fosse avvezzo alla famiglia reale è il fratello di Carlo E di Margherita, come si chiama la sorella, c'è una sorella Mia sorella si chiama Margherita No, la tua, la sorella, vabbè, poi adesso non recuperiamo La famiglia reale inglese, recupera la famiglia reale inglese e vedi tutti i nomi Comunque Andrew è il, diciamo, la pecora nera, no, un po' della famiglia reale Lo scapestlato, il gigolò, che in effetti a un certo punto Il gigolò? Il gigolò nel senso che era molto apprezzato dalle donne, soprattutto da giovane Era uno molto amato, anche perché, insomma, esteticamente un po' più godibile E con una storia molto romanzabile, perché lui ha fatto il militare Se non sbaglio l'Aviatore, o una cosa simile, comunque ha combattuto la guerra delle Falkland Aveva un'aura di grande fascino, diciamo, presso il pubblico femminile inglese Però ha anche avuto, nel film lo dicono più di una volta Che non ha un grande fiuto nello scegliersi gli amici Nonostante poi decida di essergli leale Perché a un certo punto della sua vita conosce, grazie alla conoscenza di Ghislaine Maxwell Che era una sua amica, chi è Ghislaine Maxwell, è la compagna di Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein, ve lo ricordate sicuramente per la cronaca, è un produttore americano Se non sbaglio, giusto? No, un'azienda... un'industriale? Veramente il primo epiteto che mi viene in mente è una provaccia Che lavoro faceva? Ricco? Uno ricco? Wikipedia dice È stato un criminale e imprenditore statunitense arrestato Un imprenditore, ok, un imprenditore americano Che a un certo punto è stato arrestato all'FBI E ha fatto una brutta fine in carcere, è morto in carcere Probabilmente per suicidio, ma non si è sicuri Perché attorno a lui, diciamo, c'era un grande movimento di ragazze Che venivano non solo assoldate per lui, ma assoldate per i suoi amici Quindi una sorta di giro di prostituzione, a volte anche minorile Gestito da lui e da questa sua compagna Ghislaine Maxwell Questi due personaggi, diciamo, con un certo spessore Sono stati amici del principe Andrea Ho recuperato il ramo e la colorazione e la struttura gerarchica È il fratello di Carlo III, in questo momento re d'Inghilterra Edoardo, duca di Edimburgo E Anna, principessa reale I genitori sono Elisabetta II del Regno Unito e Filippo di Edimburgo E anche il coniuge è stato il coniuge di Sarah Ferguson È stato sposato con Sarah Ferguson Infatti la figlia che compare a un certo punto in Scoop, che è Beatrice È molto somigliante, anche l'attrice è molto somigliante a Sarah Ferguson Ah, anche un'altra figlia che si chiama Eugenia di York Allora, quindi questo personaggio che appunto venendo dalla famiglia reale Deve dimostrare una certa tempra e soprattutto un'aura di rispettabilità Ha fallito completamente da questo punto di vista Da quando ha deciso di farsi questo genere di amici Cosa racconta Scoop? Scoop racconta la preparazione, cioè tutto ciò che è venuto leggermente prima E poi l'intervista stessa Di questa appunto intervista organizzata da un programma della BBC Newsnight Condotto da questa famosa e molto amata conduttrice Emily Metlis Esatto, interpretata da Gillian Anderson Che è un po', tu dicevi un po' la nostra Milena Gabanelli Non lo so Allora, Newsnight è molto simile, almeno nella descrizione, a Report Sì, diciamo che quando ne parlano nel film lo rifinisco in una specie di procedural se non sbaglio Cioè una roba un po' forense Cioè in cui le domande e i focus sono anche abbastanza tecnici Mi è sembrato di capire questo Però al centro c'è una conduttrice C'è una conduttrice molto apprezzata, molto famosa Ed è quindi in generale un programma abbastanza seguito L'abortone, avevi detto come misto Sì, però l'abortone è un po' più Pop Avrei un altro termine Ha un'anima più giornalista Esatto Un belve più Tra la Fagnani e la Gabanelli Mettere insieme queste cose Comunque, fatto sta che Sam McAllister, che è una delle produttrici Qua dice, ma da come la raccontavo Sembrerebbe più una della redazione Una della redattrice di questo programma A un certo punto si imbatte in questa sorta di scoop Perché seguendo le notizie E cercando qualcosa che facesse molto eco Perché in partenza questo programma Stava andando abbastanza male Anzi stavano facendo dei tagli In BBC Praticamente lei cercando qualcosa di cui parlare Si imbatte nel Principe Andrea Si imbatte in delle foto di qualche anno prima Che lo vedevano ritratto insieme a Jeffrey Epstein Quindi inizia a farsi delle domande È vero che era già uscito fuori qualcosa Ma era stato un po' così Buttato in caciara C'era già stata di mezzo una donna Giovane Che era stata fotografata con questo Principe Andrea E quindi c'era del movimento Lei sotto Ovviamente tutto questo Poi a un certo punto si unisce E fa il paio con tutto il discorso Che è avvenuto con Weinstein Perché Weinstein Che invece era veramente un produttore È un produttore? No Era? È morto anche Weinstein? No No, non è vivo? Ok Amico a sua volta di Jeffrey Epstein Ma comunque insomma il giro era quello là Viene citato anche Si viene citato Donald Trump Donald Trump ovviamente Con misura Eh vabbè si Anche se Si però diciamo che Questo è proprio un focus sul Principe Andrea Comunque fatto sta che decidono di Lei persegue questa pista E fa bene Perché a un certo punto Epstein viene arrestato E non solo Poi in un tempo abbastanza vicino Muore in carcere E vengono fuori tutte le sue connessioni E tra queste connessioni C'è quella del Principe Andrea Che si trova tra l'altro In un suo momento particolarmente sfigato Di poca attenzione nei suoi confronti O meglio poca attenzione positiva Perché tutti quanti lo vedono come quello che è Cioè fondamentalmente una persona priva di spessore Che non sa bene che ruolo prendere All'interno della famiglia reale Che non ha neanche lavorativamente un ruolo Perché voi dovete sapere Che questo l'ho imparato dal documentario I reali hanno anche dei lavori Quale è il documentario? Il documentario che si intituta Prince Andrew Banished Ok Le famiglie reali hanno dei lavori Cioè a parte la regina che fa la regina O il re che fa il re Gli altri Gli altri devono fare delle cose Tipo di solito sono lavori di rappresentanza Per la famiglia reale Legittimi Però insomma devono avere una loro collocazione E una delle cose più difficili per la famiglia reale Era collocare Andrea Perché questo principe Andrea Non solo appunto aveva delle frequentazioni Non il massimo È anche uno che un po' come il padre Come anche Filippo Che è uno che diceva cose Parlava un po' Molto che ti facevano vergognare Aveva un po' questo Quest'attitude Burlone Un simpaticone Un simpatico Un simpatico Che però rischia di dire Veramente delle cose Per cui ci si sente molto cringe Tutto questo dentro un film Dove al centro c'è una intervista Esatto Poi in tutto ciò Quello che alla fine Sam McAllister riesce ad ottenere È proprio un'intervista Ma non un'intervista L'intervista Cioè l'esclusiva L'unica Intervista concessa Dal principe Andrea Dopo l'arresto e la morte Di Jeffrey Epstein Questo è veramente tutto il film Se cercate Aspetta Dico un'ultima cosa Ma non ve la voglio rovinare Se cercate notizie Su questa intervista Le trovate ovunque Perché questa è un'intervista Che ha segnato La storia di Jeffrey Del principe Andrea E da un certo punto di vista Anche la storia Dei media contemporanei inglesi Perché è molto famosa E tra l'altro Una cosa che bisogna Sempre tenere presente Quando si parla Di media inglesi E di famiglia reale Il rapporto è molto stretto I media inglesi Sono tra i più bastardi Che esistano al mondo Cioè sono proprio quelli Che ti vengono Ti attribuiscono le cose peggiori Pettegolezzi terribili Cioè che in confronto Noi siamo così Gente che passa Per sbaglio Cioè loro sono proprio Lo fanno apposta Per lovinare le persone E la famiglia reale Ha tutta una sua Come dire Politica rispetto ai media Estremamente controllata Che è praticamente Uno dei fattori determinanti Della stessa sopravvivenza Della famiglia reale inglese Se voi pensate per esempio Tutto ciò che è successo Con Kate Middleton Ultimamente Ma che era successo anche prima Con Harry e Meghan Markle Che è uno dei motivi Per cui Meghan Markle Ha deciso di telare È che era proprio impossibile Gestire la propria vita A contatto con i media inglesi Anche la madre Quella poveraccia Ha fatto una brutta fine Sempre per lo stesso motivo È un brutto ambiente Non ci metterei neanche il piedino Ma in più Una cosa anche molto vicina A noi All'Italia Riusciamo in qualche modo Ad empatizzare Il rapporto tra Il governo E la BBC Quindi Le telecomunicazioni O meglio La televisione di Stato In questo film Che a me è convinto A metà Sono un'ora e 42 minuti Molto simile A quel filone di film Sulle interviste Frost Nixon E altri Si sente Il limite E anche il vantaggio Di essere un film Netflix Che appunto Il perno È proprio l'intervista Diciamo che poteva andarci peggio Potevano farne una miniserie Poteva andare molto molto peggio Invece un film almeno Il film appunto È molto interessante Nella parte Per quanto mi riguarda Nella parte appunto Di contesto Raccontare un po' Come funziona Una Un Cosa c'è dietro Ad un prodotto Audiovisivo Come un'intervista del genere Come si costruisce Come si insegue Come si crea A livello anche tecnico Molto interessante Non credo ci siano Più di tanto Edulcorazioni Sulla parte di come si fa Però Il centro è Letteralmente L'intervista Molto 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 Interessanti sono le interpretazioni C'è una capacità Esatto C'è un livello attoriale Mostruoso Molto alto Guillermo Innanzitutto Non è inglese Sì a me questa cosa Mi sconvolge la vita Se avete sentito Ascoltato Visto Sex Education E tutta quell'inglesità Prepotente Lei è la protagonista Di X-Files Fino al 2018 Dal 93 Al 2018 Con alterne E anche Continuità Era il volto Di una serie Devisiva È vero che è Cresciuta a Londra Sì 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 Però è bravissima È veramente molto brava Billy Piper Che la Interpreta Con lei che Appunto costruisce Spinge E in qualche modo Porta Il contatto Alla redazione Della BBC È molto Io non la conoscevo Però è molto brava In una Anche In un sottile In una sottile posizione Un po' Trae Marginata Della Della redazione Un po' Con la volontà Di restare Accrappata Con le unghie E con i denti Il Principe Andrew È interpretato Da Rufour Sewell Che forse Ha una Carriera di Attore di seconda Barra terza fascia Ma forse Ve lo ricorderete Nel Destino del Cavaliere Film del 2001 Con Heath Ledger Lui è il conte Ademar Ademar Anzi Forse Appunto La La faccia Insomma Anche con una Non c'era Non c'è stato Un uso Con l'era vista Billy Piper È una cantante Sì 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 Ma Anche Anche i volti Anche la regia Esatto Poi è in Doctor Who Il film Tra l'altro Chiusura Romola Garai È la caporedattrice Tra virgolette Ed è la protagonista Di Miss Marks Quindi se Quel volto Vi farà Dire Ma io questa La conosco La conosco È la protagonista Di Miss Marks Il film Vi ripeto È un film Netflix Quindi con Un pregio Di difetti È un film Molto Che segue Molto Anche l'attitude Della BBC Vuole rientrare In qualche Momento Dentro i canoni Di un prodotto BBC Quindi molto Londinese Molto UK Per me È abbastanza Un pregio Questa cosa Però Ogni tanto Si perde Dei pezzettini Non Non mi allineerei Completamente Al voto Che IMDB Dà A scoop 6,6 Ma un set Pieno Gli adoterei Sicuramente La cosa Forse Meno interessante Viste Le maiuscole Interpretazioni È la regia Di Philip Martin Che è un Regista Molto BBC Chiamiamolo così È anche una Definizione Larga Dobbiamo basare Sul Sul fatto Che è stato Colui Che ha Adattato Assassinio Su Oriente Express Facendo quel film Che credo Che non sia stato Amato granché Beh Anche curato La regia Di sette episodi Di The Crown E anche Di Catherine Diciamo Che è qualcuno Che sa Che sa Ve lo consigliamo Ve lo consigliamo Moltissimo Si chiama Scoop Ed è su Netflix